Buongiorno, dolcissime, dolcissime. Amore, siamo intornati, amore. Non fate caso perché sta piovendo, hanno fatto le macchie con le impronte dei piedi. Amore, siamo intornati. Da quanto tempo? Da quanto tempo? Miau! Miau! Allora, quanto sei bella! Ma quanto siamo belli! Ma quanto siamo belli! Ma quanto siamo belli! E oggi è venerdì duemiladiciannove. E oggi è ventisicche. Venticicoliamo che santo è. Come siamo di San Paolo? Bello, lui! E amore, non ti pensare. Io ti penso sempre. Non ti preoccupare. Il mio patato. Il mio pazzotti sei tu. Tu sei bello. Ma quanto siamo belli! Miau! 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 Andiamo, andiamo! Andiamo! Mamma! Amare della mamma! Ma ha ragione, ha ragione, è normale, tu sparisci, vuoi un cerco di gattine. Andiamo, 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 e noi ci vediamo al prossimo video, da me e da Giulio, ciao!